Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di 7 Days to Die, The Survival World Crafting Game. Come al solito io sono Amorush, che vi dà il benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, pronti a continuare la nostra avventura di 7 Days to Die? Benissimo, vi ricordo di supportare questa serie con un mi piace, che è importantissimo. Lasciate il mi piace se vi piace questa serie e se volete che continui, mi raccomando. Poi ovviamente commenti, sapete che rispondo a tutti i commenti. Quindi magari non subito, perché purtroppo ho lavoro anche, quindi ho altro da fare. Però li leggo sempre prima di registrare una nuova puntata. E soprattutto entro un paio di giorni al massimo li commento. E quindi mi raccomando, se volete lasciare un commento, sapete che io li leggo sempre e li commento. Quindi fatelo. Detto questo vi ricordo di iscrivervi alla pagina, ovviamente YouTube, se non siete già iscritti a questo canale. E attivare la campanella per non perdervi le notifiche. E in più, sapete che esiste anche la pagina Instagram, Facebook e il gruppo Telegram. E tutti i link sono in descrizione. Detto questo, direi che ci vediamo subitissimo in game. Ed eccoci in game amici. Allora andiamo avanti. Cosa dobbiamo fare in questa puntata? Ovviamente il girocottero. Abbiamo visto nel girocottero che servono degli elementi essenziali. Quindi, girocottero, iniziamo dallo chassis, direi. Quindi servono i 150 forges steel e lo abbiamo fatto nella scorsa puntata. E sistemare un po' l'inventario prima di tutto. Ok, allora. Ne abbiamo 167 qua. Perfetto. Poi mechanical parts 50. Dovremmo averli senza problemi. Ne abbiamo 1000. Eccezionale. Duct tape 25. Ne abbiamo 16. Quindi è il caso di farne altri. Duct tape che si fanno con il glue e il cloth fragment. Allora, il glue ne abbiamo un po'. E... Cloth ce l'abbiamo da qualche parte. Ma ovviamente adesso non riesco a vederlo come al solito. Dove cavolo? Eccolo qua. Ola. E possiamo craftarne ben 13. Diciamo lì tutti quelli che possiamo fare. Questo qua lo scrappiamo che non ci interessa. Che ci servono comunque quei componenti. Ola. 29. Alla grande. A questo punto cos'altro ci serve? Torniamo nel giro. Cottero e vediamo un po'. Leather. 50 pezzi di pelle. Le abbiamo. Eccole qua. E poi electrical parts. 20 pezzi che dovremmo averli da qualche parte. Le avevo visti prima. Ok. Ne abbiamo un fottio. Ok. Abbiamo tutto. Quindi una cosa ci manca però. C'è la workbench. Cioè dobbiamo ripiazzare la nostra workbench. Però prima di farlo io direi facciamo una cosa. Cioè visto che già ci siamo coloriamo un attimo qui. Tra l'altro è notte e fuori della notte sono sempre, hanno sempre quell'aria un po' bruttina. Nel senso di paura. Ola. Eccola qua. Perfetto. Allora. Girocopter. Vai. Girocopter. Chassis. Lo possiamo fare. Lo craftiamo. 14 minuti. Girocopter accessori invece. Electrical parts le abbiamo già. Headlight e short iron pipe. Headlight le abbiamo. E short iron pipe le abbiamo. Abbiamo tutto. Mettiamo qua. E girocoptero. Eccolo qua. Ma possiamo fare anche gli accessori. E le abbiamo tutte e due. Però ci serve anche tre well. Cioè le ruote che si fanno se non erro con l'acido. Quindi. Facciamo le well. Che poi è l'unica altra cosa che ci serve. Perché il resto l'abbiamo. Ok. Poi sbaglio sempre a scrivere well. Ma va bene. Allora acido. Forge d'iron. Oil. Lamp of go. Ok. Allora. Iniziamo. Questo sicuramente. E i polimeri sicuramente. Poi abbiamo forge d'iron. Non so se lo abbiamo qui. E se lo abbiamo qui non lo vedo. Ma credo di no. Quindi direi. Facciamo almeno dieci pezzi di forge d'iron. Oh guardate qua. Pern in barrel c'ha un'icona. Vedete. Interessante. Sono accorto adesso. C'è sempre stata quell'icona. Mi sono accorto adesso. E mentre di là crafta le nostre cose. Ci vorrà un po' di tempo. Però iniziamo a fare le ruote. E quindi bene così. Andiamo avanti con queste ruote. Allora. Oh là. I dieci pezzi li abbiamo. Qua. Possiamo anche spegnere. Onde evitare. Cattivoni vari. Allora. Oil. Due pezzi di oil. E li abbiamo. Ho ben 15 più 50 di qua. E poi l'ultima cosa che ci serve. È il carbone. Carbone che ne abbiamo. In quantità industriali. Prendiamone un pochettino. Andiamo di fare le ruote. Oh là. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Questo lo rimettiamo dentro qua. Che ci serve sempre. Ok. E le well. Possiamo farle. Allora. Quante ce ne servono però. Nel girocottero. Tre. Ben tre. Perché sono due davanti. E ovviamente. Una davanti e due dietro. Ecco. Non è controllo. E così ci facciamo anche le well. Fantastico. Ora. Cos'altro ci serve. Nel girocottero. Ci serve. L'engine. Anzi. L'engine. Si dice. Non engine. Engine. E led card. Lead card battery. Allora. Allora. Vediamo. Qua. Allora. Lead card battery. L'abbiamo una. Bene. Livello 6. E l'engine. Lo abbiamo. Ta well. L'abbiamo. Perfetto. Possiamo rimettere. Tutte queste cosine a posto. Che non ci interessano più. Visto che ormai abbiamo fatto tutto. Via anche questo. Direi. Perfetto. Ora. Dobbiamo solo aspettare. Alle well. Non sono. Impilabili. Dobbiamo solo aspettare. Che qua. Passino questi. Circa 12 minuti di tempo. 12 minuti. Quasi ora. Per poi. Assemblare. Il girocottero. E. Provarlo. E mentre stavo aspettando. Ho trovato un bel colorino per le scale. Guardate qua. Proprio. È il colore che abbiamo utilizzato qua. Guardate che bello. E per le scale. Viene fantastico. Cioè. Bellissimo. Guardate che bello. Ovviamente anche qua. Perché alla fine è legno. Diciamo che. Legno. Nuovo. Sostanzialmente. Legno nuovo. Ovviamente più color noce. Che color chiaro. Però comunque. Da quel tocco. Adesso. Bisognerebbe capire. Come colorare lo zoccolino. Qua. Senza far casino. Ok. Che proprio è minimo. Ma bisogna colorarlo giusto. Ok. Guardate qua. Che. Bell'effetto. Le scale. Sono molto belle. Così. Ovviamente. Vanno fatte tutte le scale. Abbiamo anche la parte sopra. Diciamo. Da sistemare. Allora. In realtà. Andrebbe sistemato tutto qua. Cioè. Veramente. Veramente. Un fottio di roba. Perché. Guardate anche qua. La situazione qua. Non è penosa. Però. Insomma. Non è che sia. Delle migliori. Quindi. Andrebbe sistemato. Veramente tutta la casa. Però. È anche vero che. Sono sti cavoli. Cioè. La base. È veramente. Troppo grossa. Per. Una sistemazione. Totale. Cioè. Veramente. Per una persona. Diciamo. Troppo. Lunga. La sistemazione. Per più persone. Invece. Potrebbe essere. Più facile. Ora. Sicuramente. Dall'alfa 18. Voglio. Come vi ho già detto. E come qualcuno di voi. Ha anche scritto. Giustamente. Vorrei. Ste cavoli. Pensavo che tenesse il colore. Vorrei. Ovviamente. Fare. Io. Da solo. La base. Da zero. Magari. In un luogo. Poi. Appena escerà. L'alfa 18. Faremo. Magari. Uno. Due puntate. A capire. Dove farla. E poi. Facciamo. La base. Esattamente. In un luogo. E la costruiamo. Da zero. Ola. Qua. Già. Già. E' meglio. Solo con la scala. Diciamo. Colorata. Già così. E' già. Molto. Meglio. Molto. Molto. Meglio. Stavo anche colorando qua. Ovviamente. La parte qua. Delle finestre. Questa l'ho rifatta. Come potete ben vedere. Non è male. Non si può colorare questo. Ma questo sì. E non è male. E poi c'è da colorare. Anche questa. Che volevo farla di. Ho provato a farla di un colore chiaro. Ma. Non è bella. Così invece. Risulta molto più bella. Guardate che. E' veramente bella. Così. Questo non lo colora. Buggato. Non lo colora. Poi ho fatto un po' di muro qua. E qua purtroppo. Dovevamo ripiazzare la cosa. Insomma. E vedete che sto portando avanti le cose. Devo dire. Molto bello. Molto 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 bello. Sta venendo. Un bel lavoretto. Diciamo. Ora qua però. Ha finito. Abbiamo tutti i pezzi. Per fare il girocottero. Che però dobbiamo assemblare qua. Vediamo quanto tempo ci impiega da assemblare. Il girocottero. Vai. Lo facciamo. Craftiamo. Un minuto e trentaquattro secondi. Ma aspetterò anche che faccia giorno. Visto che sono le tre di notte. Bisogna aspettare che faccia giorno. E ci siamo. Il girocottero fatto. Eccolo qua. Ora. Attenzione. Allora. Il girocottero. Oh. Le scale sono anche qui. Posso colorarle anche qua. Assoluti. Colora. Ok. Assolutissimamente. È giusto colorarle anche qua. Stavo dicendo che ora il girocottero è fondamentalmente. E ovviamente. Ha dei problemi. Allora. È un po' bagatino. È un po' bagatino perché me l'avete scritto praticamente tutti. Tutti quelli mi hanno detto. E' un casino pilotarlo. Bla 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 bla. Che è vero. Che è vero. Però vi ricordo che. Adesso lo proveremo. Comunque è un girocottero. Non un elicottero. È un girocottero. È praticamente simile a un elicottero. Monoposto. Ma. Qualcuno che vuoi magari ha giocato. Far Cry lo faceva vedere. Però in realtà non era molto giusto. Però fondamentalmente il girocottero. È simile a un elicottero. Ma non è uguale. Allora. Innanzitutto piazziamolo. Ed eccolo qua. Il nostro girocottero. Guardate. Questo è il nostro girocottero. Ovviamente anche questo ha un inventario. Abbastanza grasso. Grande. Grasso. Grande. C'ha il codice. Il solito. Abbiamo l'open con i vari. Tutte le varie cose. Un bel refuel. Facciamo. Di benzina. Ha. I modificatori. Poi ci dice quant'è la speed. 10ms. 10 metri al secondo. Vorrà dire. Questa è 13ms. Credo che sia un metro al secondo. Mi sembra un po' troppo. Però velocità massima magari è così. Questa è 14ms. Quindi è un po' più lento. Però vola. Ora. Andiamoci sopra. Ovviamente si accende. Possiamo muoverlo. Eccolo qua. Lo muoviamo. Lo raddrizziamo. Andiamo a manetta. E dobbiamo un po' spiccare il volo. Eccoci qua. Guardate. Allora. Con spazio si sale. Allora. Ve lo dico. Non è facilissimo. Con spazio si sale. E con C ci si abbassa. Allora. In realtà non è. Vedete. Non è facilissimo da pilotare. Però. Bisogna farci un po' la mano. Ma questo già lo sapevo io. La prima volta che lo uso. Però. So più o meno come funziona un giro cottero. E ho visto i comandi del gioco. Quindi con la C si si alza in volo. Con la C. Eh. Con lo spazio scusate. Con la C invece. Si. Eh. Si scende. Ora. Sto facendo una discesa brutta. Raddrizziamoci. Sul. Sul. Va bene. Ok. Un pannello solare. Ho visto ora. Ok. Scendiamo. Va bene. Stiamo attenti. Che qua. Altrimenti lo spacchiamo. Insomma. Non è facile pilotarlo. Ma. Bisogna prenderci un attimo. Credo la mano. Un po' almeno. Per tenerlo dritto. Ecco. Una volta che lo teniamo dritto. Secondo me. È abbastanza facile. La cosa importante. È prendere un po' di velocità. E se abbiamo tipo una rampa. Una discesa così. È più facile alzarsi. Altrimenti si preme. Spazio. Un po' di volte. E si cerca di salire. E poi lui sale. Vedete. L'unica cosa. Che vedo. Eccolo. Vedete. Un po' alla volta. Ci si fa. Non bisogna schiacciare spazio troppe volte. Giusto. Una volta. Due tre volte. Ecco qua. Vedete che. In men che non si dica. Più o meno. Abbiamo preso il volo. E lo stiamo utilizzando. Ora. Occhio. Mi raccomando. Alla benzina. Perché è assolutissimamente essenziale. Alla benzina. Fa un bel po' di casino. Questo sicuramente. Per la prima volta. Guidiamo. Meno male che. Più o meno. So come funziona. Un giro cottero. Però in alcuni giochi c'era. E quindi. Più o meno funziona. La stessa maniera. Abbiamo quindi. Da tenere il gas premuto. Questo gira. Elica dietro. Elica sopra. Ci tiene in aria. E possiamo decidere. Se andare più in aria. O meno in aria. Ovviamente. Possiamo lasciare il gas. Per perdere un po' di quota. E possiamo muoverci così. Guardate qua. Stiamo. Fantasticamente. Guidando. Sopra l'acqua. Con un rischio atroce. Di finire in acqua. Ma possiamo vedere. La nostra base dall'alto. Ed è quello che vorrei fare. Allora. La velocità. È un po' quella che è. Ovviamente. Ecco. Se vi capita. Perché vedete che. Lui man mano. Perde quota. Ho notato che. Se schiacciate. Un po' di volte. Spazio. Lui rimette. Il. Diciamo. Il. Pronte. Leggermente. Più in alto. E questo. Dovrebbe far riprendere quota. Vedete. Poi. Poi. Man mano. Lui si riassesta così. E tende. Può a scendere. Se lasciamo il gas. Dovrebbe scendere. Di quota. Man mano. Può la volta. Si. Si ferma. E man mano scende. Ok. Guardiamo un attimo. La nostra base dall'alto. Per la prima volta. La possiamo vedere. E possiamo. Vedere anche. Lo stralavoro. Che è stato fatto. Guardatela qua. Ora. Caccia Eva. Guardate la torre gialla. Cosa cavolo è successo? È crollato un pezzo della torre gialla. Com'è possibile? È la prima volta che mi accorgo. Ora l'idea era. E tra l'altro la torre rossa non è neanche colorata tutta. Ora l'idea era magari di fare. Una sorta di eliporto. Verso. Lì. Cioè. Sopra la casa. Però. Non funzionerebbe. Quello che si può fare invece. È tirare giù un po' di questi alberi qua. E utilizzare sotto qua. Come pista. Non sarebbe male. Voi che ne pensate? La proviamo questa cosa. Magari nella prossima puntata. E fa parte ovviamente. dell'ampliamento della base. E poi. Altra cosa. Ovviamente. Non possiamo sparare agli zombie. Mentre andiamo. Devo dire che consuma anche abbastanza. Ora. Provo ad atterrare. Perché anche. L'atterraggio fa parte. Della guida. Però più o meno ad atterrare. Ok. Con sgommata anche. E io direi di fare. Tipo. La pista. Proprio una vera pista. Qua. Quindi. Proprio qua. Vedete. Noi tiriamo giù gli alberi lì. Perché altrimenti. Se no. Ci andiamo contro. Facciamo una bella pista. Quadritta. E prendiamo il decollo. Magari facciamo anche una rampa. Che ci aiuta. Ovviamente a decollare. E questo. Amici. Era. Il fottutissimo. Girocottero. Devo dire. Meraviglioso. Ed era uno degli obiettivi. Di questa serie. Fare il girocottero. Ce l'abbiamo fatta. A livello 120. Facendo tutti gli upgrade. Giocando. Facendo un sacco di puntate. Vi ricordo. Di supportare questa serie. Con un mi piace. Mi raccomando. È importantissimo. Lasciate un mi piace. Per far continuare la serie. Andremo avanti. Soprattutto voglio andare a vedere le notizie. Dell'Alfa 18. Man mano. Che verranno sviscerate. Continuando ad andare avanti. Con queste puntate. Ovviamente. Grazie al vostro supporto. Del mi piace. Ovviamente. Commentate. Dite cosa ne pensate. Se è una buona idea. Qua fare. La pista. Ma secondo me. Lo è. Per fare una pista di decollo. Qua. Lo è. Con magari una rampa in fondo. Boom. Che prendiamo il volo. Queste sono tutte idee. Che mi vengono. Ma vi ricordo. Nei commenti. Potrete mettere le vostre. Per. Ovviamente. Andare. Avanti. Se poi. Se volete. Anche. Come qualcuno mi ha scritto. Una bella puntata. Dove meno gli zombie. Visto che qua. Non spawnano. Grazie. All'enclin block. Ci facciamo. Magari. Anche qualche missione. Magari. Utilizzando il girocottero. Per arrivare. Nella zona di missione. Visto che. Ha un buon inventario. E poi. Cercare di ripartire. Ce ne sono. N. Di cose. Da fare. Bisogna cambiare anche le scritte davanti là. Col nome della base. Come abbiamo fatto. Nella scorsa alfa. Ce ne sono tantissime di cose. Quindi amici. Libero sfogo. Nei commenti. Le vostre idee. Poi vi ricordo. Iscrivetevi al canale. Se non siete già iscritti. Ovviamente. Attivate la campanella. In descrizione. Trovate la playlist. Di questa fantastica serie. Per non perdervi neanche un video. E poi. Soprattutto. La pagina Instagram. E la pagina Facebook. Come il gruppo Telegram. Sono presenti. Anche loro. In descrizione. Da amorici tutto. E ci vediamo. Alla prossima. Fottuta. Puntata. Di Seven Days to Die. Ciao a tutti.